buongiorno da stefania bonomi e ben ritrovati all'appuntamento al primo appuntamento con l'informazione di Fano. Naturalmente come tutte le mattine andiamo a vedere che santo festeggiamo oggi. Oggi festeggiamo San Simmaco Papa. San Simmaco ha avuto una vita piuttosto travagliata in quanto è stato minacciato dal re ostrogoto Teodorico e ha sempre avuto addosso l'opposizione dell'antipapa Lorenzo. Trova però il tempo di riscattare e liberare gli schiavi quando viene eletto Papa nel 498 quindi gli viene attribuita la costruzione del primo palazzo Vaticano. Andiamo a vedere cosa ci riserva il tempo oggi. La situazione del meteo è quella ancora di tanta afa e un gran caldo sulle marche con temperature massime comprese tra 37 e 41 gradi mediamente. condizioni previste ovunque assolati. Abbiamo delle giornate di sole splendido da partire da 33 gradi. Arriviamo fino a 38 e riscendiamo un pochino verso domenica dove la massima da ancora 33 gradi. le temperature si aggirano intorno appunto a questa a questa gradazione. Benissimo e come tutte le mattine noi ci andiamo a collegare con il nostro Ivano Biasiolo dei Bani Marino 1958. Buongiorno Ivano. Buongiorno a tutti. Ma che splendida giornata. Puoi dirlo forte. Stamattina si sta molto bene. C'è un po' di arietta e finalmente si vedono i colori. Esatto si vedono dei colori un po' diversi dalle altre mattine molto più più limpidi molto belli. Sì sì stamattina sì stamattina ci aspettiamo altre temperature ma un po' di arietta. Lo abbiamo appena detto con le previsioni del tempo adesso siamo ancora con temperature molto alte. Innanzitutto per anche per i telespettatori che non hanno magari seguito le giornate di lunedì a martedì quando ci siamo collegati. Non le ho mai chiesto il nome del bagno cioè il nome dello stabilimento. Si chiama Marino 1958 da Numana. Da cosa questo nome? Esatto. Allora perché fu aperto fu diciamo aperto proprio nel 1958 da Marino Pincini e attualmente è la terza generazione che lo praticamente lo gestisce quindi abbiamo voluto con questo cambio tra virgolette di nome omaggiare un po' anche la storia della della struttura e dello stabilimento. Quindi è un'attività di famiglia che è andata avanti negli anni. Bene. Sì sì assolutamente e appunto è la terza generazione che lo porta avanti. Sente Vano ieri abbiamo dato così un'anticipazione. Oggi volevo abbiamo parlato ieri del territorio abbiamo parlato di dove il turista può trovare delle situazioni molto gradevoli storiche piuttosto che però oggi volevo parlare di enogastronomia. Volevo sapere qual è il piatto tipico di Numana? Beh qui ci sono i piatti con il pesce quindi gli spaghetti con le vongole per esempio. Diciamo che le nostre località qua sulla costa sono rinomate per questo piatto qui. Lo potete gustare in tante varianti perché ognuno la fa in maniera diversa ma poi alla fine sotto sotto sono sempre spaghetti con le vongole o arselle. Perfetto. E senta lì avete un bar un ristorante nello stabilimento? Sì noi abbiamo qui un bar e un ristorante anche pizzeria e siamo anche tra virgolette tra l'altro siamo anche certificati AIC quindi per le persone celie che vogliono trovare qualcosa senza glutine facciamo tutto anche la pizza per esempio. Quindi voi siete aperti sia a pranzo che a cena? Colazione, pranzo e cena. Perfetto. E la richiesta del vostro cliente qual è a livello gastronomico? Cioè su cosa sono più indirizzati? Chiaro fa molto caldo quindi presumo che andranno tantissimo insalate piuttosto che piatti freddi però tendenzialmente... Allora lei dico il pranzo si differenzia un pochino dalla cena allora il pranzo serve di più diciamo gli utenti della spiaggia quindi ricercano qualcosa di fresco e di veloce da mangiare all'ora di pranzo mentre la sera alla cena le persone si sono più rilassate si fermano di più sicuramente i piatti un po' più ricercati con il pesce sono molto richiesti. Noi siamo anche molto forti nella pizza perché abbiamo degli impasti studiati dal nostro dal nostro pizzaiolo qua che sono fantastici quindi però diciamo che il pesce la sera soprattutto è molto richiesto. Certo e a livello di bevande avete anche vi appoggiate a delle aziende vinicole o come? Sì noi siamo allora noi siamo ambasciatori Ferrari qui noi con la nostra terrazza facciamo gli aperitivi sì sì poi torniamo anche da aziende della della zona quindi famo vedere la passerina trovare insomma no poi anche siccome abbiamo una direttrice degli acquisti molto brava ha ricercato dei birrifici artigianali qua della zona e ci riforniamo l'edificio di Pesaro che si chiama Blink che fa dalle birre fasmagoriche quindi è tutto un po' ricercato qui da noi cerchiamo di dare un prodotto un po' diciamo di alta qualità. Senta Ivano l'aperitivo è sempre una cosa molto richiesta? L'aperitivo noi l'abbiamo lanciato quest'anno abbiamo avendo fatto tutta la struttura nuova abbiamo questa terrazza meravigliosa che è da sfumare e le persone a le persone piace molto va dalle note piace piace fermarsi lì e chiacchierare una musica soffusa e il tramonto chiaramente un tramonto che noi abbiamo alle spalle ma che comunque è sempre molto molto piacevole molto bello comunque abbiamo un collegamento un po' disturbato dicevo con dei colori meravigliosi mi sente? sì adesso siga sì sì adesso la sento esatto va bene allora Ivano abbiamo fatto delle piacevoli chiacchiere anche questa mattina purtroppo il tempo a disposizione non è tantissimo però noi ci rivediamo domani mattina come al solito sempre alle 7 e racconteremo ai nostri telespettatori altre cose della sua zona turistica grazie grazie a voi buona giornata a tutti arrivederci iniziamo la nostra rassegna stampa partiamo subito da il resto del carlino il resto del carlino come titolo di testa affa e rabbia il nostro viaggio al san salvatore pronto soccorso troppe attese ho un taglio alla testa e sto aspettando da 4 ore e questo è il titolo di testa del resto del carlino ramo cade travolge una ragazza dramma a mira al fiore la giovane passava sotto il pino lungo la ciclabile di via Cimarosa ferita allarme dei residenti la fotonotizia parla del paglio dei bracieri anche il quartiere di pozzo la finale sarà il 30 luglio i magnifici 16 all'ultimo respiro e poi abbiamo ancora le notizie di lato centro autismo tutto da rifare via bitielli la sede non è adatta e urbino parla della discarica oggi in consiglio il faccia a faccia della verità a fondo pagina la vl ha firmato l'ala è trevon bluiette è lui il quarto straniero del roster manca solo il pivò per chiudere il cerchio e andiamo invece a vedere la prima pagina del corriere adriatico il corriere adriatico mette in centro pagina la fotonotizia una svastica ispiaggia è un undicenne con i familiari andremo poi ad approfondire la notizia levante lavori ad agosto ancora una proroga per il cantiere del cascone in piazzale d'annunzio protestano gli albergatori a villa san martino concluse le opere per la ciclabile e la messa in sicurezza del rondò di via paganini ed ancora le brevi di cronaca pesaro acquedotto la lega attacca il comune per la doppia rottura sempre a pesaro cede di schianto un ramo di pino ferita una ragazza marotta stroncato dal caldo mentre al mare muore a 85 anni fondopagina discarica governance divisa i vertici di mms in consiglio andiamo subito a vedere il primo piano sulle marche maxis vastica sulla spiaggia pesaro scoppio alla rivolta è successo questo ieri è stata disegnata da un bimbo sotto lo sguardo della sua stessa famiglia il video è subito diventato virale sui social un testimone siamo sbalorditi per lo sfregio invece di fare castelli di sabbia questo bambino ha disegnato sull'arenile di sottomonte una maxis vastica accompagnata da alcune parole in tedesco ed una inequivocabile scritta SS a realizzarla è stato un bambino straniero sotto lo sguardo vigile di un uomo e di una donna che i genitori forse non si sono accorti di quello che stava facendo il bambino perché stavano facendo il bagno naturalmente tutto questo ha scatenato l'orrore dei vicini di spiaggia seppur fatto sulla sabbia e quindi cancellabile con un colpo di piede è stato realizzato in un territorio simbolo della lotta al neofascismo in una città da sempre legata a Liliana Segre e dove oggi ancora riemergono le bombe della seconda guerra mondiale quindi non è stato un ideona ma povero bimbo d'altronde cosa poteva sapere di una cosa del genere sempre primo piano a Pesaro per gli incroci a rischio il comune va avanti con il pacchetto rondò conclusi i lavori per rendere definitive le rotonde di Villa San Martino e via Milano e via Paganino nuova ciclabile e illuminazione botta e risposta sui cordoli mancanti spostiamoci sulle pagine sempre di Pesaro e andiamo alla sicurezza violenza sulle donne e maltrattamenti ogni mese una media di almeno 6 casi sono 36 le segnalazioni pervenute alla questura dall'inizio dell'anno con l'attivazione del codice rosso violenza sulle donne, stalking e maltrattamenti 36 casi in provincia nel primo semestre indagini e allontanamenti da parte della questura e della polizia di stato che hanno attivato la procedura del codice rosso coordinate dalle rispettive procure della Repubblica entriamo, apriamo le porte della nostra città e siamo a Fano viabilità centro civico e case rinasce il rione Gimarra il vice sindaco Fanesi presenta la sistemazione urbanistica con funzioni sociali Gimarra si sta risollevando da un disordine che l'ha tenuta in disparte per diverso tempo caratterizzandola come un quartiere periferico con una viabilità problematica e una scarsità di servizi in questi giorni nel quadro delle opere di urbanizzazione ha rilevato l'assensore Christian Fanesi si sta rifacendo l'asfalto della strada che dalla statale adriateca sale fino alla cena comprendendo anche un tratto di questa via che rappresenta la spina dorsale del quartiere la viabilità è sempre stato un problema per i residenti di Gimarra l'obbligo per tutti di percorrere la statale per raggiungere il centro storico ha comportato un rischio che in parte ancora incombente e tuttavia appare ridimensionato dalla realizzazione della pista ciclabile dell'Arzilla che consentirà un miglior collegamento sempre a Fano il porta a porte la tariffa puntuale approvata la revisione del servizio passa la proposta del Movimento 5 Stelle di Clini del PD l'obiettivo è la riduzione della produzione dei rifiuti si maturano i tempi per l'applicazione della tariffa puntuale che consentirà ai cittadini di pagare la tassa della raccolta di rifiuti in relazione alla quantità degli scarti urbani che essi stessi producono l'altra sera in consiglio comunale è stata approvata una mozione sottoscritta dai tre consiglieri del Movimento 5 Stelle Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontane dal consigliere del PD Giovanni Clini finalizzata di introdurre gradualmente a Fano un nuovo sistema di raccolti dei rifiuti e di conseguenza la tariffa puntuale la proposta dei 5 Stelle ha fatto riferimento alle esperienze più avanzate del nostro paese che hanno dimostrato come la modalità porta a porta per tutte le frazioni di rifiuto combinata con le isole ecologiche intelligenti aumenti non solo la quantità da anni ferma intorno ai 74-75% a Fano ma anche la qualità della raccolta differenziata facilitando così il riciclo dei rifiuti restiamo sempre a Fano una città turistica una città non è turistica senza bagni questa riguarda il Presidente regionale dei campeggiatori che chiede almeno servizi chimici infatti la città continua ad essere prima di servizi essenziali come i gabinetti pubblici tra una manifestazione e l'altra non mancano i turisti che affollano le nostre spiagge si aggirano nel centro storico per scoprire le bellezze della nostra città l'unica soluzione è fare riferimento allo spirito di comprensione di un ristoratore o di un barista consumando un caffè o ordinando una colazione a Mediotarsi oggi Presidente onorario a livello regionale dei campeggiatori evidenzia una città non può chiamarsi turistica se ai turisti non si offre un servizio essenziale naturalmente come quello dei bagni pubblici Siamo, restiamo sempre a fano cena solidale per sostenere i bambini disabili domani sera Tre Ponti con l'ONG l'Africa chiama c'è anche la lotteria si chiama Grese ed è una bambina di Iringa in Tanzania colpita da una pesante disabilità che la costringeva a vivere nel chiuso della sua capanna trascinandosi pensate per terra con un deambulatore avrebbe l'opportunità di sfuggire a questa sua tristissima condizione conquistando un fondamentale grado di autonomia servono però 80 euro per acquistare l'attrezzo ed è un'operazione che è possibile se volete sostenere l'Africa chiama che è proprio una manifestazione che intende soddisfare questa richiesta e le altre innumerevoli richieste che giungono dai suoi centri operativi in Kenya, Tanzania e Zambia con l'Africa nel cuore iniziativa giunta all'edizione numero 22 ci sarà la cooperativa Tre Ponti che sarà il luogo dove verrà ospitata la manifestazione domani sera ci spostiamo in Val Metauro dietro fronte sull'emendamento c'è un errore ora lo ritiriamo piano sanitario Berloni corregge l'input del presidente della commissione Bartoli in Val Cesano invece stroncato dal caldo in spiaggia già colpito da malore 5 anni fa la vittima è Gian Antonio Iacobelli 85 anni di Piobbico inutile il soccorso dei bagnini del 118 la rustida torna a Gabice dopo 4 anni in piazza ci sarà pesce per tutti la rustida è la grigliata questa sera cattolica si ripropone come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate dalle 20 e 30 il profumo del pesce grigliato chiamerà tutti a raccolta per il grande banchetto saranno allestiti diversi fuoconi e postazione per cuocere il pesce fresco di giornata preparato e grigliato e servito da oltre 40 bagnini cattolichini quindi una bella cosa assolutamente da andarci vediamo anche le notizie che dà il Corriere Adiratico dello Sport Silla Lavis ecco la spunta che serviva Menga ha ritrovato ieri l'accordo dopo i giorni di trattative Banchieri ha voluto l'ex attaccante dell'Alessandria ed ancora crescono i dubbi sull'Alcione il Fano si avvicina alla Serie C sono scaduti i termini per il ripescaggio stando a quando trapela i milanesi non ne avrebbero fatto richiesta chiudiamo il Corriere Adiratico e vediamo la rassegna stampa del resto del Carlino pronto soccorso troppe attese ho un taglio alla testa sto aspettando da 4 ore ecco l'articolo affemalori pronto soccorso pieno è scattata la rabbia per le attese taglio alla testa sono qui da 4 ore su 130 pazienti 70 chiedono aiuto per la calura soltanto una signora giustifica i tempi lunghi il caso di un giovane gambiano ho una ciste da incidere ho dolore basta pochissimo ancora aspetto le lamentele sono qui dalle 7 di mattina sono le 12.30 e mi devo ancora visitare per capire il problema ed ancora dal resto del Carlino andiamo a vedere le notizie su Fano torniamo a Vitruvio se ricicrede sempre più indizi lo studioso in visita impressionante sfarzo dopo il ritrovamento del pilastro alto 1,40 m monta l'entusiasmo continua lo scavo intorno al pilastro in calcestruzzo di via Vitruvio finora emerso per un'altezza di 1,40 m l'ulteriore reperto i preziosi marmi scoperti da marzo confermano la presenza di un edificio di epoca romana di grande importanza che potrebbe davvero essere la vagheggiata basilica di Vitruvio ritrovamento del pilastro in calcestruzzo commenta il sindaco Massimo Seri è la conferma dell'esistenza di un imponente edificio romano sono sempre di più gli indizi che ci portano a pensare che quella sia davvero la basilica di Fano citata nel De Architettura Seri parla anche della possibile acquisizione dell'area da parte del comune sempre a Fano marineria il museo all'ex Manfrini intanto lo scimitar torna in acqua dopo le polemiche per la donazione del materiale storico a Pesaro gli assessori Lucarelli e Cucchiarini insieme all'associazione Ridosso rilanciano 2 milioni per un grande progetto di valorizzazione la storia di Fano si racconterà attraverso l'ecomuseo diffuso dalla marineria che stiamo costruendo l'assessore al turismo Etienne Lucarelli prende atto della decisione di lasciare in custodia al museo della marineria pesarese del materiale raccolto sui lavoratori del mare di Fano ma ricorda che il progetto fanese sta ancora andando avanti si tratta di una struttura di due piani per un totale di 900 metri quadrati ed è ancora proprietà del demanio ma alla fine di un iter già in corso dovrebbe passare al comune di Fano a titolo gratuito un piccolo giallo quello di Montigiove muretti a pezzi vandali no è stato un fulmine si pensava appunto che il muretto di Montigiove fosse stato distrutto dai vandali ma non è successo così perché i mattoni che si vedono a terra sono frutto di un fulmine che si è abbattuto dopo un temporale e che ha fatto quei danni tanto che hanno dovuto mandare dei tecnici a fare delle verifiche cartocetto aria nuova nelle scuole purificatore contro virus e polveri gli apparecchi sono dotati di filtri sofisticati ne beneficeranno gli alunni delle medie e dell'asilo due interventi possibili grazie ai contributi della regione Marche per un investimento totale di 135 mila euro comprensivo di cofinanziamento con un comunale derivante da due bandi promossi dall'allora assessone all'istruzione Giorgia Latini ed ancora Malore in spiaggia muore anziano lo ritroviamo ieri mattina sulla spiaggia di Marotta è morto un 85enne il pensionato residente a Piobico è stato colto da Malore mentre si trovava sulla battigia e nonostante i soccorsi per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare le ripetute pratiche di rianimazione eseguite dal personale del 118 infatti non hanno avuto un effetto e alla fine ai sanitari non è rimasto altro che costatarne il decesso a Urbino da discarica riceci il giorno del faccia faccia attesi oggi alle 18 in consiglio comunale l'amministratore delegato MMS Mauro Tivirole il presidente del CDA Andrea Pierotti e sempre e sempre a Urbino antiche note nuove emozioni in città il viale edizione numero 55 del festival musicale quasi tutti i giorni sono in programma due concerti uno alle 19 e l'altro alle 21 andiamo a Fossombrone parliamo di avviabilità ma soprattutto di incidenti stradali il dramma della Pecchiese più controlli sulla strada la richiesta di Giacomo Rossi dopo l'ultima tragedia serve un giro di vite i motociclisti sono ben accetti chi vuole fare le corse vada nei circuiti troppe croci sulla Pecchiese l'arteria spesso teatro di tragedie come quella di domenica scorsa che è costata purtroppo la vita ad un giovane centauro 22enne finito fuori stada con la propria moto accanto al rafforzamento delle misure è però sempre necessario un comportamento consapevole da parte di tutti coloro che transitano su queste strade e andiamo a darvi una notizia anche per quanto riguarda la eccoli qua gli spettacoli scusate volevo segnalare prima di chiudere il nostro appuntamento volevo segnalare il concerto del cantautore Tananai sabato a Senigallia dopo il rinvio di giugno per l'alluvione in Romagna arriva Tananai a Senigallia credo nella musica mi ispiro a Linkin Park ora pop ed elettronica sono entrambi dalla mia parte saremo mi ha dato spunti per il futuro ora è un festival che abbraccia tutti i generi con questa notizia io chiudo anche per oggi la rassegna stampa vi do naturalmente appuntamento a domani mattina l'informazione torna questa sera alle 20 e 30 vi auguro una buona giornata grazie a tutti